Un solo messaggio. Dottor Najee I. Arfaj. Serie Cerco la verità. Dedica a coloro che cercano sinceramente la verità, onestamente e con la mente aperta. Sommario. Domande da porsi prima di leggere. Diritti al punto. L'unico Dio nella Bibbia, il Vecchio Testamento, l'unico Dio nella Bibbia, il Nuovo Testamento, l'unico Dio nel Quoran. Conclusioni. Un solo messaggio. Domande da porsi prima di leggere. Che cosa significa un solo messaggio? Che cosa dice la Bibbia a questo proposito? Che cosa dice il Quoran a questo proposito? Diritti al punto. Fin dalla creazione di Adamo, soltanto un messaggio originario è stato ripetutamente consegnato agli uomini nel corso della storia dell'umanità. Così, per ricordarlo alla gente e riportare sulla retta via, molti profeti e messaggeri, tra cui Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e Mohammed, pace su di loro, furono inviati dall'unico vero Dio a trasmettere questo messaggio. Il vero Dio è uno solo. Rendete culto a Lui solo e osservate i Suoi comandamenti. Il vero Dio, il Creatore, ha inviato il profeta per trasmettere il seguente messaggio. Adam, Dio è uno. Noè, Dio è uno. Abramo, Dio è uno. Mosè, Dio è uno. Gesù, Dio è uno. Mohammed, Dio è uno. Dio inviò questi maggiori profeti, così come molti altri profeti e messaggeri, per svolgere molteplici compiti e missioni, tra cui 1. Ricevere la guida da Dio e trasmetterla alla gente. 2. Trasmettere il messaggio che Dio è uno. 3. Essere modelli da seguire per i loro popoli. 4. Istruire i loro popoli e temere Dio ed osservare i Suoi comandamenti. 5. Insegnare ai loro discepoli importanti principi religiosi e morali e regole mondane. 6. Guidare coloro che erano deviati, che disobbedivano a Dio o adoravano altri dei o idoli. 7. Spiegare alla gente quale fosse la loro destinazione definitiva, l'ultimo giorno, e ciò che conducesse al paradiso o al fuoco dell'inferno. È stato lo stesso Dio a creare e di inviare questi profeti e messaggeri. Egli è il creatore di tutti gli esseri umani, di tutti gli animali e di tutte le cose. È proprio questo vero Dio che ha creato l'intero universo, inclusa la natura e tutto ciò che contiene. Egli è il creatore della vita, della morte e della vita dopo la morte. L'unicità di questo vero Dio, il creatore, è evidente e facilmente rintracciabili nelle sacre scritture di ebrei, cristiani, musulmani e altri. Studiando il concetto di Dio nella Bibbia e nel Quoran sinceramente e obiettivamente, un sincero ricercatore della verità sarebbe in grado di discernere la qualità unica appartenente al solo vero Dio. Alcune delle qualità che distinguono questo solo vero Dio da altri che affermano di essere Dio sono questo vero Dio è il creatore, non è stato creato, questo vero Dio è uno, non tre o di più, non associati né con simili. Questo unico vero Dio è invisibile, nessuno può vederlo in questa vita, non si è manifestato fisicamente né incarnato in altre forme. Questo unico vero Dio è eterno, non muore né cambia. Questo unico vero Dio non ha bisogno di nessuno, né di una madre, né di un padre, né di un figlio, non ha bisogno di nulla, né di cibo, né di bevande, né di aiuto. Invece gli altri hanno bisogno di Lui. Questo unico vero Dio è unico nei Suoi attributi, nessuno è come Lui, nessuna similitudine umana o animale può essergli attribuita. Possiamo partire da questi criteri e qualità, così come le altre appartenenti a Lui solo, per esaminare e rigettare qualsiasi pretesa di essere Dio. Ora vorrei passare ad esaminare l'unico messaggio di cui sopra, citando alcuni versetti biblici e coranici, confermanti l'unicità di Dio. Ma prima di farlo vorrei condividere con voi questo pensiero. Alcuni cristiani potrebbero esclamare con meraviglia, è ovvio che un Dio sia uno, noi crediamo in un solo Dio, allora qual è il punto? Tuttavia, basandosi su molteplici letture e sullo studio di diverso materiale della cristianità e attraverso le discussioni con numerosi cristiani, sono giunto a capire che essi percepiscono questo unico Dio includente. 1. Dio il Padre. 2. Dio il Figlio. 3. Dio lo Spirito Santo. Così basandosi sul comune buonsenso e la semplice logica, un sincero e honesto ricercatore della verità potrebbe argomentare. Cosa intende dire dichiarando che Dio è uno? Riferendovi al contempo a tre dei? Dio è uno in tre o tre in uno? Uno in tre o tre in uno? In aggiunta a ciò, secondo i dogmi cristiani, questi tre dei hanno diverse identità, immagini, ruoli e funzioni. 1. Dio il Padre uguale al Creatore. 2. Il Figlio uguale al Salvatore. 3. Dio lo Spirito Santo uguale al Consolatore. In questo modo, se Gesù, Dio il Figlio o il Figlio di Dio, fosse realmente Dio o parte dell'unico Dio, ciò non contraddirebbe forse la Bibbia stessa quando sostiene che nessuno può vedere Dio né sentire la sua voce? La Bibbia afferma non avete mai sentito la sua voce né visto il suo volto? Giovanni 5.37. Nessuno lo ha mai visto e nessuno può vederlo? I. Timoteo 6.16. Nessuno può vedermi e rimanere in vita? Esodo 33.20. Sulla base di questi ed altri testi biblici chiedo sinceramente e onestamente come possiamo conciliare il dogma secondo cui Gesù sarebbe Dio con la testimonianza biblica che nessuno ha mai visto Dio né sentito la sua voce? All'epoca gli ebrei, la sua famiglia, i suoi discepoli non hanno forse visto Gesù, Dio, il Figlio, come alcuni credono e sentito la sua voce? C'è forse un segreto a proposito occulto riguardante la verità a proposito di Dio? Nella Bibbia il vero Dio testimonia con enfasi. Io sono il Signore e non vi è altro Dio. Non ha parlato in segreto o tenuto il mio intento nascosto. Io sono il Signore e dico la verità. Faccio conoscere ciò che è giusto. Isaia 45.19. Quindi qual è la verità? Si prega di rileggere il versetto e rifletterci. Ora partiamo per un viaggio alla ricerca della verità a proposito dell'unico vero Dio nella Bibbia e nel Quoran. Alla fine di questo viaggio e dopo la vostra lettura critica, sincera, onesta e riflessiva di questo puscolo e in particolare dei versetti citati di seguito, mi piacerebbe conoscere le vostre azioni o opinioni. Per essere il più obiettivo possibile citerò i versetti senza commentarli. Per favore, leggete i versetti seguenti con attenzione, in modo critico e senza alcun preconcetto. L'unico vero Dio nella Bibbia. Vecchio Testamento. Ascoltate Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno. Deuteronomio 6,4. Non è forse l'unico Dio ad aver creato e sostenuto per noi lo spirito della vita? Malachia 2,15. Dovete conoscermi e credere in me e comprendere che sono io. Prima di me nessun Dio fu creato. Neve ne saranno dopo di me. Io sono il Signore e oltre me non vi è salvatore. Isaia 43,10,11. Io sono il primo e sono l'ultimo. Oltre a me non vi è Dio. Chi è con me? Isaia 44,6. E non vi è altro Dio a me. Un Dio giusto e salvatore. Non ve ne è alcun altro accanto a me. Rivolgetevi a me e sarete salvati. Dinanzi a me ogni ginocchio si piegherà. Isaia 45,21,23. Questi sono alcuni versetti dell'Antico Testamento. Puoi credere che vi siano dei consimili a Dio? L'unico vero Dio nella Bibbia, il Nuovo Testamento. Qualcuno venne e gli chiese, buon maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Ed egli, Gesù gli rispose, perché mi chiami buono? Non vi è che un buono, che è Dio. Matteo 19,16,17. Versione di Re Giacomo. In verità, questa è la vita eterna, che essi conoscono te, l'unico vero Dio, e Gesù Cristo, colui che ti ha inviato. Giovanni 17,3. Adorate il Signore vostro Dio e servite Lui solo. Matteo 4,10. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno. Marco 12,29. Perché vi è un solo Dio? E vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. 1, Timoteo 2,5. Potete rievocare altri versetti che confermino che Dio è uno solo? Non tre. L'unico vero Dio nel Quoran. D. Egli, Allah è unico, Allah è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a Lui. Non c'è altro Dio che me, adoratemi. Sono certamente miscredenti quelli che dicono, in verità Allah è il terzo di tre, mentre non c'è Dio all'infuori del Dio unico. Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? No, la maggior parte di loro non sanno. Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Allah è ben più alto di ciò che gli associano. Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? D. Producete la vostra prova se siete veridici. In effetti, questo messaggio concernente l'unicità di Dio, vale a dire Taujit in arabo, è il tema fondamentale nel Corano. Conclusioni Questi versetti, così come centinaia di simili elementi di prova nella Bibbia e nel Corano, confermono questo unico, eterno messaggio. Il vero Dio è uno solo. Non solo la Bibbia afferma che Dio è uno solo, ma rivela anche il vero Dio, il Creatore e l'unico Salvatore. Prima di me nessuno fu creato, neve ne saranno dopo di me. Io sono il Signore e oltre me non vi è Salvatore. Isaia 43, 10, 11 Quindi, secondo questa affermazione, tutti gli altri ipotetici dei e divinità, come Gesù, lo Spirito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna o Buddha, non sono né dei né manifestazioni dell'unico vero Dio. Fu a causa di queste false credenze che, dopo che gli ebrei adorarono altri dei, l'ira del Signore li colpì. Numeri 25, 3 Parimenti, Mosè distrusse il vitello d'oro. D'altra parte, gli Esseni, una delle più antiche comunità della comunità cristiana degli unitariani, subirono torture e persecuzioni a causa del loro rifiuto di sostituire gli insegnamenti monoteistici di Gesù con l'innovazione paolina della Trinità. In sintesi, tutti i profeti di Dio, inclusi Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e Muhammad, furono inviati dallo stesso Dio, il Creatore, per trasmettere lo stesso messaggio. Il vero Dio è uno solo. Adorate Lui solo e seguite i Suoi comandamenti. E poiché questi profeti e messaggeri predicarono lo stesso messaggio, la loro religione deve essere la stessa. Allora, qual è la religione di questi profeti e messaggeri? La sottomissione al volere di Dio è l'essenza del messaggio di questi profeti. Questa parola, sottomissione, in arabo si dice Islam. Il Quran conferma che l'Islam è la vera religione di tutti i profeti e messaggeri di Dio. Questa realtà coranica è rintracciabile nella stessa Bibbia. Ed è quel che sarà discusso a Dio piacendo nel prossimo puscolo. In definitiva, per raggiungere la salvezza, dobbiamo accogliere e credere al suddetto messaggio, volentieri e con cuore aperto. Tuttavia, farlo non è sufficiente. Dobbiamo anche credere in tutti i veri profeti di Dio, incluso il profeta Muhammad, e seguir la loro retta guida e i loro insegnamenti. Questa è la porta dell'ingresso verso una felice vita eterna. Quindi, se sei sinceramente alla ricerca della verità e desideri la salvezza, dovresti prendere in considerazione tutto ciò adesso, prima che sia troppo tardi, prima che giunga la morte. Potrebbe giungere presto, chi può saperlo. Un'altra cosa, un ultimo pensiero. Coloro che sono sinceri, onesti, seri, obiettivi, e che stanno cercando la verità con mente aperta, e dopo aver riflettuto criticamente su questo messaggio, potrebbero porsi domande come Allora, qual è la verità? Che cosa posso fare? Puoi sinceramente credere nel tuo solo vero Dio, Allah, credere nel suo ultimo messaggero, e pronunciare le seguenti testimonianze. Testimonio che non vi è alcun degno di adorazione dal di fuori dell'unico vero Dio, Allah, e che Muhammad è il messaggero di Dio, Allah. Questa testimonianza è il primo passo sulla strada della vita eterna, e la vera chiave per la porta del paradiso. Se deciderai di incamminarti lungo questa via, potrai contattare un amico musulmano, il più vicino centro islamico, oppure me. Sarei molto felice di esserti utile. Sì, puoi farlo. Di, o miei servi, che avete ceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di Allah. Allah perdona tutti i peccati. In verità, egli è il perdonatore, il misericordioso. Tornate pentiti al vostro Signore e sottomettetevi a Lui, prima che vi colga il castigo, che allora non sarete soccorsi. Brevi definizioni dei principali termini islamici. Allah, il nome corretto dell'unico vero Dio, il Creatore. Allah, il vero Dio di tutta l'umanità, ebrei, cristiani, musulmani, hindù, ecc. Mohammed, l'ultimo profeta dell'unico vero Dio, Allah. Islam, sottomissione alla volontà del Creatore, il vero Dio, Allah. Si può raggiungere la vera felicità e serenità soltanto attraverso la sottomissione e l'obbedienza al vero Dio. Muslim, musulmano, colui che si sottomette alla volontà del vero Dio, Allah, il Creatore. Corano, Corano.